Bene ragazzi, qui trova fra che vi parla e vi dirò in maniera abbastanza breve cosa è successo nel server ho caricato un video stamattina in cui vi chiedevo di entrare in questo server che è stato un progetto in cui ho partecipato da due mesi a questa parte quindi un progetto che mi ha impegnato in tempo, lavoro, comunque interesse ma soprattutto ha impegnato anche dal punto di vista del materiale, comunque di denaro anche molti ragazzi che hanno partecipato al progetto a primo impatto è stato davvero bellissimo vedere che non appena ho caricato il video sono entrato nel server e c'era già pieno 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 di gente eravate davvero in tantissimi nel lab, tutti a salutare, tutti a partecipare comunque alle partite in cui partecipavo io, tutti a killarmi nel kit pvp quindi siete davvero dei cani e zeus vi punirà, l'ho detto anche nella chat perché tutti contro di me appena entravo mi killavate, è davvero stata una cosa molto molto bella purtroppo è durata poco, è durata poco perché ci sono stati dei problemi di crash non ci aspettavamo che entrasse così tanta gente ma soprattutto da quanto mi hanno detto i founder o comunque i manager lo staff del server, quindi ragazzi con cui sto cercando di risolvere il problema mi hanno detto appunto che è stato bottato il server quindi da quanto ho capito, non vorrei dire una stupidata della gente si è divertita a mandare in crash il server adesso o se sono questi i divertimenti della vita vabbè, bene, riderò anch'io quello che mi interessa però io non voglio parlare di questi danni adesso quando caricherò il video non so se si sarà già sistemato molto probabilmente io non ci sarò perché ho altri impegni ma ci sarò nei giorni futuri quindi date un'occhiata al server anche quando non ci sono io fate un bel salto se volete fate una bella donazione in maniera tale da supportare il server e permettere di acquistare macchine più potenti così da permettere anche che il server non crashi e comunque in maniera tale che potremmo giocare in maniera più fluida piacevole e anche appunto più semplice però naturalmente la cosa più importante è che io mi sono divertito un casino sebbene appunto come ho già detto siamo rimasti nel server non tantissimo ho girato un piccolo video adesso vedrò se caricarlo o meno e mi sono divertito davvero tantissimo mi è piaciuto un casino vedere quanta gente mi salutava quanta gente era lì alla fine per me e per questo nuovo progetto che è una cosa molto molto bella e molto molto piacevole da portare avanti ma soprattutto una cosa che spero dia soddisfazioni non solo ora ma in futuro vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato ringrazio tutti quelli che parteciperanno spero che lasciate un bel mi piace al video ma io spero soprattutto che lasciate un bel mi piace in un certo senso al server spero che facciate un salto all'interno di questo server proviate le modalità clash, la modalità di clash sarà disponibile a breve proprio perché questi problemi non sono riusciti a gestirla al meglio quindi a breve sarà disponibile anche quella e ci vediamo tra pochissimo all'interno del server e sul canale con i nuovi video vi ringrazio tutti e ci vediamo alla prossima bella